Credo che sarebbe stata una forma anche di rispetto nei confronti delle istituzioni, una sua collocazione in una posizione che riconoscesse il ruolo che lui ha svolto e che lui personalmente ha svolto con grandissimo impegno e grandissima qualità, quindi penso che lo avesse meritato. Il governatore Spacca non digerisce l'esclusione del suo vice Paolo Petrini dalle liste del PD alla Camera. L'ottava posizione, infatti, in cui si trova candidato il numero 2 di Spacca non lo mette al sicuro per un posto a Roma. Il PD poteva fare qualcosa di diverso? Ma sai, ognuno utilizza i criteri che ritiene prioritari, utili e opportuni. Dicevo che se fossimo stati in Germania o anche in Cina, probabilmente un amministratore regionale sarebbe stato collocato nelle primissime posizioni di una lista per le elezioni politiche, qualora avesse dimostrato, come ha dimostrato Petrini, competenza e capacità. Intanto il puzzle si va componendo anche nelle altre liste. Con Monti la fiorettista Iesina, Valentina Vezzali, è bastata una stretta di mano, dice. Ho deciso di far parte della squadra perché Monti è una persona seria, che crede nella famiglia, nei valori come l'etica e la morale e credo possa veramente fare qualcosa per risollevare le sorti dell'Italia. Nella lista Monti anche Roberto Reficini, numero uno della protezione civile regionale. Riconferme invece in casa centrodestra Carlo Cicciogli e Remigio Ceroni hanno già il seggio assicurato per il resto e braccio di ferro col nazionale.